Sindaco Maurizio Brucchi, il Presidente Cantagalli lascia la TEAM, il nuovo Presidente, entro un mese? Sì, più o meno, nell'ultimo Consiglio è stato approvato il regolamento, adesso farò il bando, pubblicherò il bando e poi sceglieremo Presidente, Consigliere, così come prevede la legge, Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio dei Revisori. Tre anni di raccolta differenziata, qual è il bilancio? Ma il bilancio è positivo, è chiaro che bisogna lavorare sulla TIA, bisogna lavorare sulla TIA, sulla TARI, meglio, sulla TARI, cercare di ridurla già da subito, di una piccola percentuale e poi l'anno prossimo, a regime, quando partirà Vede Lago, la riduzione sarà molto più importante. Un'azienda che si sta profilando come gestore unico su tutto il territorio sta partecipando anche a gare importanti? Ma lo sto facendo sul campo, perché sta vincendo gare una dopo l'altra e io l'avevo detto che potrebbe profilarsi come gestore unico, intanto partirà dopo l'estate Giulianova, Penna Sant'Andrea, Cermignano e tutta un'altra serie di comuni che già godono del servizio della Teramo Ambiente. Non abbiamo ripartito gli utili da quando ci siamo insediati noi con l'Aggiunta Chiodi, non l'abbiamo fatto nemmeno quest'anno, che c'è un utile di circa 40.000 euro e questo utile è stato utilizzato per andare a sistemare alcune partite del passato. Fernando Cantagalli, perché l'Ascia e che esperienza è stata? Perché c'è un tempo per ogni cosa, è scritto anche nel Vangelo. Ora è arrivato il tempo che mi occupo un po' di più della famiglia, soprattutto delle nipotine. Penso di avere dato quanto potevo dare. Magari si poteva fare di più, però io mi ritengo abbastanza soddisfatto. Potevo fare anche altro, ma ho preferito l'ultima parte della mia attività, dedicarla all'Ateam, perché sapevo che l'Ateam aveva bisogno di un'attività molto approfondita. Ed era così poi, tutto sommato, per le cose che ho detto prima, perché l'Ateam era un po' sull'orlo del burrone. La poltrona, la poltrona dell'Ateam? La poltrona non mi è mai interessata. Mi è interessato il servizio, la poltrona no. Se mi fosse interessata la poltrona avrei fatto altre scelte, per lavori che sapevo fare magari di più e molto ben remunerati. Che farà ora? Volontariato politico. Politico con la P maiuscola naturalmente. Riapirò il mio sportello sotto i porti, il mio sportello 21-19. E farò, come dicevo prima, a chi lo richiederà dispenserò i consigli, senza assumere incarichi naturalmente. Allora, man. Grazie. 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 Grazie.